buonasera a tutti iniziamo con qualche minuto di ritardo questa iniziativa chimica sostenibile si svolge su varie giornate qualcuno di voi ha già seguito le prime due giornate e ora è la terza giornata entriamo diciamo più nel vivo però sicuramente l'argomento di oggi se non è chimica sostenibile lì non sappiamo cosa come definirla allora chimica sostenibile quindi la chimica diventa green come perché i relatori di oggi sono due inizio col presentare il primo relatore che è luigi fabbrizi lui si è lavorato a firenze nel 1969 quindi è una persona che ha grande esperienza chimica diciamo così e ha fatto un po il precario mi sembra l'università a firenze per un bel po di anni fino a 1980 se non ho capito così l'ho interpretato io assistente era un ruolo già diciamo meno precario di quelle dei ragazzi di or che sono proprio precari era un ruolo strutturato erano gli assistenti poteva anche prendere moglie insomma poteva anche cominciare a sistemarsi e poi dall'ottanta è andato a pavia dove ha continuato tutta la sua carriera fino a andare in pensione ora è merito a pari a pavia come tutti quanti nel nostro ambito ha tantissime collaborazioni internazionali quelli che ci diamo di più il fatto la sua collaborazione con la cina lui è professore onorario di università della scienza della tecnica a shanghai e quindi c'è tutto questo background anche internazionale ha vinto dei premi importanti che non ricordo il nome come si chiamano però premi importanti che lo configurano appunto soprattutto nell'ambito della chimica generale inorganica cioè nell'ambito dei macro cicli dell'ambito della chimica supramolecolare come un esperto mondiale penso che l'argomento più o meno si muova in questo campo e quindi passo sicuramente la parola a luigi grazie grazie giovanni generosa presentazione grazie a tutti voi che siete qua e se oggi parliamo della della trasformazione della chimica dalla chimica tradizionale è quella con cui ho cominciato molti anni fa è la chimica di oggi che si muove in ambito di sostenibilità comunque la chimica detta così correntemente chimica green chimica verde ora io comincio con un discorso molto molto alla lontana e comincio con questo dipinto famosissimo del botticelli il simbolo del rinascimento fiorentino la cosiddetta primavera perché primavera il nome primavera gli ha dato il vasari perché dice che nella villa del duca una villa medici ci sono due quadri uno di venere che nasce e quello sappiamo la nascita di venere agli uffizi e l'altro ancora agli uffizi venere con le grazie la fioriscono un'altra venere che le grazie la fioriscono dinosando la primavera e in effetti se noi osserviamo diciamo il il pavimento e il soffitto diciamo di questo quadro vediamo che ci sono tanti piori piante botanici studiosi della botanica ne hanno contate varie decine questo riprodotti alla perfezione dal botticelli e questo testimonio della conoscenza diciamo dell'importanza che lo stesso botticelli dava dava alla natura e sì in effetti tutto questo tende a illustrare la primavera c'è una cosa che un po' contrasta il fatto che ci sono sugli alberi d'arancio ci sono i frutti di arance che in realtà crescono a settembre ma insomma anche se poi il significato è ben più complesso il significato di questo dipinto come tutti i dipinti dell'epoca in particolare quelli del botticelli fortemente simbolico ormai la si chiama primavera e questo ha colpito la fantasia per esempio della più importante industria chimica peson chimica italiana leni che nel maggio del dell'anno scorso ha prodotto un comunicato stampa in cui è presentata una versione moderna della primavera e qui è nasce questa amministrativa in occasione della creazione di una diciamo consociata della della un pezzo dell'eni cosiddetta plenitude e tutti abbiamo visto questo sui giornali in televisione dice che questo è un quadro che diciamo illuzza la transizione energetica che vuole fare leni cui leni vuol contribuire e in particolare ogni personaggio racconta un aspetto del mondo dell'energia e svolge un'azione virtuosa ora vediamo quali sono queste azioni virtuose innanzitutto qui c'è mercurio che punta verso un pannello fotovoltaico quindi questa è già un'opera meritoria nell'ambito della transizione energetica Mike Loris invece questo è un signore di mezza età ma che diciamo fa va in bicicletta quindi anche questo ha un effetto benefico Zephyro invece va sullo skate e poi c'è Cupido che non si sa che cosa fa ecco su per l'aria qui che sta prendendo dei frutti e qui ci sono le tre grazie e le tre grazie che hanno in mano non si vede bene un telefonino e poi nel mezzo c'è finalmente c'è venere e venere qui accende spegne un interruttore non si sa insomma questo è quanto questo diciamo testimonia la passione diciamo e con interesse per il per il verde volere diciamo sottolineare l'aspetto green anche del dell'eni che è un'induzia inquinante per definizione fondata nel 53 da Enrico Mattei un pezzo anche questo dell'Iri poi nel 2017 ha dato come dire si ha affiliato da una una sua parte è in gas luce per esempio io pago le mie bollette è in gas luce ma questa è diciamo anche il cane a sei zampe nero così non gli è piaciuto e questo è diventato verde e questa consociata questo pezzo si chiama plenitude ora le bollette io molti di voi forse le pagheranno a plenitude ma è come nasce perché c'è questa questa passione quindi qui ecco a voler illustrare che si passa da un'energia un'energia del petrolio un'energia nera a un'energia verde non non inquinante del tutto sostenibile vedremo come però Eni è sempre presente nel nome plenitude ma questa passione per il verde questa quasi moda la si vede in tante cose per esempio non so in questa auto che è un'auto tutto sommato non particolarmente cioè non è un'auto elettrica diciamo ora il processario vuole sottolineare che lui è green anche se trattando su una macchina vecchiotta più o meno del 2006 2007 questa ogni chilometro produce 151 grammi di CO2 sempre meno della della Hyundai Tucson che pur essendo a 1600 centimetri cubini produce meno perché questa è naturalmente recente ma addirittura se uno viaggia o viaggiava sul frecciarossa nella classe diciamo in seconda classe e gli viene offerta una bottiglia di acqua e questa acqua ecco la freccia rossa è un'acqua che è definita secondo me non è tanto invitante è definita green è un'acqua verde ma nessuno vorrebbe volentieri ma per esempio non so qui si parla di si qui siamo all'aeroporto al fiumicino si parla di sostenibilità scritta in verde e poi si parla anche di finanza verde o finanza sostenibile il che implicitamente comporta l'equazione green uguale sostenibile e quando è cominciato tutto questo tutta questa passione questa che per certi versi una moda per il verde beh è cominciata negli anni 60 grazie a questa signora gentile Rachel Carson che era una biologa ma anche una una scrittrice che pubblicò nel 62 la primavera silenziosa e questo questo libro che ha avuto un grande successo tradotto anche in italiano molti di noi lavorano lavorano l'abbiamo letto uscì questo fu importante in tre parti sul new yorker che un giornale sì di intellettuali però diciamo letto dalla classe dirigente americana e questo che cosa diceva questo libro questo libro era un'accusa all'uso del ddt dell'insetticida ddt che ha causato danni irreversibile alla vita selvaggia agli uccelli alle api agli animali domestici e anche agli umani anche agli umani e prima diciamo la pubblicazione sul new yorker poi dopo anche il libro ebbe un grande successo ed ebbe un enorme impatto sulla società ora il dicloro il ddt è la la sigla per diclorodifenilsicloretano che è una molecola abbastanza semplice un idrocarburo con parecchi atomi di cloro sintetizzato nel 1874 da zeidler e poi però nel 39 un chimico svizzero della gaichi scoprì che aveva degli poteri insetticidi potentissimi molto potenti e al punto che diciamo lui scoprì che questo diciamo era particolarmente efficace nel debellare la zanzara nofare per questo fu insegnito del premio nobel per la medicina nel 48 però la zanzara nofile è il vettore principale del plasmodio della malaria quindi una malattia diciamo diffusa in tutto il mondo che è stata da allora debellata o comunque è possibile debellarla e questa per chi è stato avvissuto negli anni 50 fortunatamente non moltissimi fra di voi a parte me stesso era familiare il ddt era un qualcosa di familiare che apparteneva alla nostra vita quotidiana perché perché esisteva questa pompa questa questo spruzzatore diciamo a stantuffo che si chiamava flitte flitte era il marchio di fabbrica dell'aesso di allora flight ox che conteneva il 5 per cento di ddt ed era divertentissimo andare a seguire le mosche e sparare con 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 questa con questa con questo spruzzatore e una delle ragioni del suo successo era anche una una musichetta che veniva diciamo trasmessa alla radio e diceva mazza la mosca conflict e poi è comparsa anche recentemente in un film ma noi le ragazze l'abbiamo trasformata ed è rimasto forse questo in mazza la vecchia conflict questo è un modo di dire e ora a parte questo questa questa questo libro l'uscita di questo libro pubblico un grande sommovimento nell'industria nell'industria dei pesticidi perché appunto qui dice la industria dei pesticidi che vale diciamo 300 milioni di dollari siamo negli anni sessanta altamente irritato cioè l'industria è stata altamente irritata da una donna da un autore donna tranquillo in cui i lavori precedenti hanno stati apprezzati per la bellezza e la precisione e lo scrivere e rachel carson agita un conflitto e i produttori i produttori gli industriali chimici di insetticidi stanno gridano questa è pazza questa è disgustosa diciamo ecco questo anche nella popolazione suscitò del notevole impatto per esempio questa che leggiamo qui è una lettera all'editore del new yorker e dice riferimento di rachel carson alla responsabilità dei manufattori dei produttori di insetticidi riflette probabilmente le sue simpatie comuniste come quelle dei nostri scrittori in questi giorni noi possiamo vivere senza uccelli e senza animali ma non come il mercato corrente la crisi mostra la crisi del mercato corrente non possiamo vivere senza affari e per gli insetti non deve essere la paura di una donna che che ci per la morte di pochi piccoli insetti e dice soprattutto finché noi abbiamo la bomba atomica ogni cosa sarà ok tutto andrà bene però questo diciamo era un pensiero della gente comune in realtà il presidente kennedy che aveva letto sul new york e invitò rachel carson alla casa mianta per discutere questi questi problemi e creò uno scomitato scientifico una commissione per studiare e verificare quello che che sa la spring era stato verificato era stato era stato riferito e poi fu messo su una un panel ancora una commissione per vedere per considerare gli effetti secondari dei pesticidi e da questo è partito tutta una un'azione politica nel settanta allora c'era già nixon creò questa importante agenzia la ipa la agenzia di protezione ambientale che doveva pensare a ripulire l'aria e l'acqua combattere il rumore e preservare recuperare quello che ci sta intorno poi nel 1980 fu venne fuori il comprensive environmental response come c'era la abilità insomma anche questo e tutte cominciavano a prendere iniziative però qui le iniziative che erano prese il problema era che non è importante rimediare cioè si era importante rimediare agli effetti ma più che altro bisognava eliminare le cause di questo effetto dell'inquinamento dell'avvelenamento della natura e allora nel 90 ecco venne creata questa il lato di prevenzione della della dell'inquinamento che si proponeva di favorire la riduzione dell'aumento dell'inquinamento cambiando la produzione l'operazione e l'uso delle materie prime quindi bisogna lavorare a monte prevenzione e diciamo così il personaggio il deus ex machina in qualche modo di questa iniziativa fu paul anastas che è il guru tutt'oggi della della chimica della green che messi che oggi è professore di chimica università prestigiosa la university edittore del direttore di un censo di chimica verde e di ingegneria chimica verde e lui che cosa aveva fatto per non aveva avuto una carriera universitaria particolarmente brillante ha preso il sì un phd ma università di media di media importanza però nell 89 aveva cominciato a lavorare proprio per la ipa l'agenzia di protezione ambientale e se l'è dato da fare e sviluppò il concetto di disegno di progettazione della chimica che deve essere benigna da un punto di vista ambientale innovativa e diciamo producesse dei benefici economici e coniò il termine green chemistry green chemistry è la progettazione di prodotti e processi che riducono o eliminano l'uso e la generazione di sostanze pericolose questa è la definizione di green chemistry di chimica verde che è rimasta e sempre nello stesso anno la ipa lancia un progetto un progetto dedicato riservato alle università e come si fa a far muovere i professori universitari si mettono in paio dei finanziamenti di ricerca però non è che i soldi fossero tanti erano 333 mila dollari però dati assegnati a 6 unità di ricerca i professori di università prestigiose anche con questa anche questa cifra diciamo non modesta ma nemmeno esagerata servì a promuovere a muovere a muovere e polana stasacconiato appunto questa questa questo termine benign by design a parte la letterazione benigno nella progettazione quello che conta è la progettazione cioè progettare in maniera da non creare inquinamento e fra gli eventi ci sono stati diversi eventi che hanno importanti che hanno segnato passo passo lo sviluppo della chimica verde un simposio nel 93 a chicago sempre intitolato benign by design la prima Gordon conference un meeting prestigioso che si tiene negli stati uniti su sintesi organica benigna da un punto di vista ambientale e anche l'italia si è mossa a pia e sotundo all'università di venezia organizza la prima conferenza congresso internazionale sulla green chemistry ecco che il termine green chemistry entra con tutti i diritti del linguaggio della scienza la royal society of chemistry gli inglesi sempre tra i primi e i primi in questo caso stampano un giornale di green chemistry che oggi ha un discreto impatto in impact factor che sarebbe una misura statistica dell'importanza del giornale basata sulle citazioni di 1106 poi la la società chimica europea è venuta molto dopo nel 2008 con chem su scheme chemisie sustainable chemisie e infine gli americani sono mostri tardi sustainable chemisie ingegneria nel 2013 sono giornali diciamo letti molto letti oggi nella nell'ambiente della ricerca chimica ecco poi nel 2000 la UFAC la società diciamo preposta al controllo della chimica della sua nomenclatura da finalmente una definizione di chimica verde e qui c'è un comitato in cui c'è paul anastas ma il presidente pietro tondo e poi ci sono chimici di tutto di tutto di tutto il mondo diciamo da una definizione di green chemistry che è la stessa fatta di data da anastasia già diciamo pubblicata dall'invenzione la progettazione e l'applicazione di prodotti chimici processi che riducono eliminano l'uso e l'accelerazione di sostanze pericolose benissimo e la green chemistry si è naturalmente una scienza centrale per quanto riguarda qualità della vita benessere dell'umanità protezione ambientale sviluppo sostenibile tutti i termini che oggi sono nel linguaggio corrente ecco però ci poniamo un problema semanti di semantica ma si dice green chemistry chimica verde o chimica sostenibile e qui prende posizione allora siamo nel 2000 la commissione perché dice green chemistry o sustainable chemistry è soggetto di dibattito se si debba dire o l'una o l'altra e green chemistry è fortemente evocativa ma può assumere un non voluto una politica connotazione politica insomma non involontaria perché perché qui pensa al partito dei 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 verdi sedeschi che all'epoca ora molto meno era un partito molto attivo era un partito radicale quasi rivoluzionario e d'altra parte la la chimica sostenibile in chimica sostenibile può essere diciamo tradotta in chimica per uno sviluppo per un ambiente sostenibile e può sembrare meno focalizzata e meno incisiva per cui dice questa commissione senza voler forzare nessuno adotta il termine green chemistry e quindi la iufac sceglie green chemistry non sustainable chemistry ma chi ha vinto poi la chimica green o la chimica verde o la chimica sostenibile da un punto di vista del linguaggio e qui c'è chi ha fatto una una richiesta una ricerca statistica e si vede l'uso del del della comparsa diciamo di questo dei termini o grino sostenibile nei nei lavori scientifici diciamo ecco nei lavori scientifici e sustainable chemistry come va cresce in maniera modesta dal 90 in poi e la chimica verde ecco a un certo punto nel 96 97 parte al razzo e sul classa nettamente la la chimica sostenibile quindi ecco perché noi chimici usiamo più volentieri il termine chimica verde green chemistry piuttosto che chimica sostenibile la chimica la green chemistry ha per certi versi connotati di una religione e qui c'è un giornale il new american che è un giornale un po radicale radicaleggiante insomma degli degli stati uniti che dedica la povertina del new american a green religion e dice che l'ambientalismo reclama di essere basato sulla scienza ma contiene gli aspetti di una religione qui in qualche modo è vero e perché la religione ha il supporto delle nazioni unite noi non possiamo ignorarla quindi una religione si basa su delle regole che vengono dall'alto le regole predeterminate la religione cristiana si basa sui dieci comandamenti e anche la chimica verde ha i suoi comandamenti che sono i dodici principi della chimica verde e questi sono fornitati formati dal profeta dal mosè della chimica verde da paul anastas e qui sono indicati tutti già da uno a dodici e noi cercheremo ora di vederli per il tempo che abbiamo a disposizione in sequenza allora si comincia con prevenzione dei rifiuti è meglio prevenire rifiuti che trattare o ripulire rifiuti dopo che sono stati creati ma questo ci convince passiamo al secondo etome economy economia dell'atomo i metodi sintetici dovrebbero essere progettati per massimizzare l'incorporazione di tutti i materiali utilizzati nel processo e nel prodotto finale cioè non ci dovrebbero essere scarti dovrebbe essere tutti gli atomi di reagente dovrebbero finire nel prodotto in un unico prodotto e tutti gli atomi sono in denso non si deve buttare via nulla e chi ha inventato questa questa termine questo ha inventato un grande chimico organico contemporaneo ben ritroster che qui vediamo e professore a stanford ora è in pensione professore merito ma e qui dice il professor belli sosta usa una tecnologia vecchio stile vecchio moda per descrivere la sintesi degli amminoacidi e allora mi permetto di fare una una parentesi sulla tecnologie fuori moda dell'insegnamento ora noi siamo tutti insegnanti e sappiamo che esiste una vecchia tecnologia della didattica che è quella del gesto della lavagna e che cosa fa l'insegnante l'insegnante trasmette conoscenze agli allievi agli usandosi con dei segni che gli allievi possono trascrivere gli allievi gli studenti prendono appunti che è un trucco per stare attenti perché sennò uno non parte quella tangente e poi c'è una tecnologia didattica invece più moderna che è usata per esempio dai miei ex studenti che sono diventati dei grandi professori e questa tecnologia del proiettore dello schermo e cosa fa il professore proietta slide complesse verso gradevoli che gli allievi però possono solo ammirare non possono riprodurre nel loro quaderno e questo questo è allora questo professore è un insegnante no non è un insegnante perché non fa dei segni noi lo dovremmo chiamare un proiettante quindi direi miei ex studenti voi non siete insegnanti siete dei bravi proiettanti ma chiudo la parentesi e spero che fra di voi ci siano gente che usa ancora la lavagna e disegna le formule sulla lavagna va bene allora torniamo però all'etome economy peso molecolare ecco si divide con un numero peso molecolare del prodotto desiderato diviso il peso molecolare di tutti gli agenti quindi se io ho una reazione a più b che da c più d allora e c è il prodotto desiderato la economia atomica sarà il peso molecolare di c più il peso molecolare di ora se prendiamo una reazione abbastanza famosa la sintesi di gabriel delle ammine primarie questa è una reazione con cui si passa dal cloriderivato poi ci mette la potassio ftalimide e poi questo il prodotto si fa reagire con idrazzina e si ottiene l'ammina che ci interessa però si ottiene anche quindi in questo caso se calcoliamo prendiamo questa sia una profilammina l'atomeconomia è molto scarsa perché si divide col peso molecolare del prodotto desiderato diviso quello dei reagenti siamo al 40 per cento 40 per cento allora uno studente piuttosto sveglio più svegliato diceva scusate scusi professore ma se invece delle reazioni a più b che da c più di facessimo le reazioni a più b che da c certo questo va meglio e qui ci sono delle reazioni ora questa è una una ricetta di una serie di reazioni sono una dozzina di reazioni che io stesso il professor iurinovic il docente dell'ora successiva abbiamo raccolto abbiamo ripreso nella letteratura qualche volta adattato e alcune di queste poi sono state le farà vedere penso il professor iurinovi sono state riprese nel suo laboratorio sono disponibili in in rete e poi vi daremo il perché interessato il sito che poi il sito della società chimica italiana didattica chimica didattica diciamo dove si possono vedere e queste ricette e anche i filmati e queste sono state pensate per gli studenti degli itis diciamo ecco del triennio del dell'itis diciamo quelli che fanno chimica e sono tutte esperienze che si conducono in una seduta di laboratorio in quelle due tre ore di laboratorio ma che un professor di liceo magari anche se non ha non fa laboratorio con individuale per gli studenti può fare per esempio come come dimostrazione o comunque può far vedere filmato ecco queste sono delle sintesi sono 13 in realtà e sono tutte sintesi diciamo di tipo green cioè nel senso che si riprendono sintesi tradizionali vecchi e precedenti no guardate questa si può fare con questo metodo green con questi si può fare ugualmente bene in laboratorio e questo è una buona diciamo esercizio un buon allenamento per gli studenti per entrare anche in questo in questo mondo e i video sono disponibili a questo a questo a questo link ora questa reazione che viene fatta è la reazione fra furano e acido moleico e qui sono riportati i prodotti necessari il contesto qui la reazione descritta veniva originariamente condotta in benzene al riflusso invece in questo caso viene fatta in in acqua a temperatura ambiente quindi non si usa un solvente nocivo non si consuma energia e soprattutto l'etome economy quant'è e cento e cento perché tutto il prodotto tutti reagenti tutti gli atomi di reagenti vanno a finire nel prodotto non ho detto che la resa è il cento per cento e la previsione la previsione è cento per cento allora le reazioni che avviva più via dare c più di non ci soddisfano a più b c ci soddisfa allora perché non fare una reazione a più b più c a dare di questa sì che è una bella reazione green le reazioni cosiddette a tre componenti una reazione la più famosa o forse una delle più famose reazioni a tre componenti è quella fra aldeide benzoica urea e aceto acetato di etile che da un prodotto di interesse farmaceutico un idrofilimidinone che è la base per lo sviluppo di 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 farmaci più sofisticati e e questo va in due in due gradini in due step prima c'è la reazione di sciffe fra urea e la benzaldeide la condensazione di sciffe poi la reazione con l'acetato l'ateceto acetato di etile eliminazione di molecole d'acqua e formazione dell'idrofilimidinone questa è la reazione di biginelli e la reazione di biginelli un nome che è tornato di moda poco noto un bravo chimico italiano fatta nel 93 nel 1896 nell'epoca della grande chimica nascita sviluppo della chimica organica eccolo qua pieno biginelli che nasce in piemonte una provincia di bercelli e si laurea a torino poi passa qualche tempo come aiuto alla caccia di chimica organica a milano una scuola superiore non all'università che non c'era con keller e poi nel 90 si muove va a firenze a fare l'aiuto di hugo schiff il fondatore della chimica fiorentina all'istituto superiore di studi superiore di prezzi non c'era l'università ma c'era questo questo che era una specie di scuola di dottorato diciamo ecco una scuola per laureati in chimica l'università era a pisa era qua a firenze c'era questa questa scuola superiore dove era stato chiamato hugo schiff e qui siamo in un laboratorio in laboratorio qui si vede biginelli allora a 32 anni e questo è il il capo è il professore schiff all'epoca cinquantotenne e biginelli pubblica questo questo lavoro su un giornale tedesco mit gaitl von hugo schiff comunicato da hugo schiff che presenta questa questa e la reazione è una reazione eccola qua cioè la reazione da questo si mettono tutti gli agenti direttamente tutti insieme in etanolo si tiene a bollire per un paio d'ore e poi viene un prodotto che dà questa analisi questa analisi e questa analisi corrisponde ecco la reazione è questa quindi come la scriviamo oggi con le formule di struttura che oggi sappiamo scrivere e il prodotto il peso molecolare è proprio quello dell'idro pirimidinone è proprio quello corrisponde quindi la formula la formula blusa è quella e questa formula corrisponde a quanto si mette una molecola di urea anstof una di benzaldeide una di aceto acetato di etile meno una molecola di acqua e poi lui si esercita anche nelle formule di struttura queste qua sul fondo però diciamo le forme struttura che fa lui sono non corrispondono eccole qua e lui non conosceva la chimica degli eterocicli non quindi diciamo sono o l'etere dell'acido benzuramido mutilico o l'ecito dell'acido benzuramido clotonico in realtà nell'uno nell'altro però diciamo aveva fatto i suoi sforzi il peso molecolare è lo stesso naturalmente e poi lui ancora a Firenze fa come aiuto fa qui nella famosa aula detta oggi Ugo Schiff l'aula di chimica di allora che è rimasta intatta anche se io ho seguito qui le mie lezioni ma anche se adesso non è più usata per le lezioni e lui sta a Firenze fino al 97 1897 perché non rimane lì visto ci stava così bene lavorava così bene perché lui nel 94 era andato a Roma a fare la libera docenza come si usava e si è usato fino a qualche decennata di anni fa anche l'Italia a fare il concorso e in commissione c'è Candidinsaro, Paterno, Balbiano, tre grandi chimici che vedono il tipo in gamba e il tipo sveglio gli dicono ma perché ci sta a fare a Firenze con quell'antipatico tedesco Ugo Schiff ma vieni qua e insomma lui nel 97 va a Roma, lascia Firenze, va a Roma a fare l'assistente alla cazza di chimica farmaceutica con Luigi Balbiano poi dopo quattro anni passa all'istituto di sanità pubblica e lo chiama lì Paterno e oggi è l'istituto superiore di sanità ora questo è un nome oggi sinistro, ci fa pensare le cose più terribili, l'istituto superiore di sanità ma insomma allora invece non era così e poi diventa direttore del laboratorio chimico quindi fa una chimica fortemente applicata a problemi non strettamente chimici o comunque non di ricerca chimica quindi ecco che questo fa delle cose degnissime e meritevoli ma questo che poteva essere un grande chimico finisce la sua carriera nella chimica organica ecco allora abbiamo parlato di economia atomica, etomeconomy, non ha a che fare con la resa chimica la resa chimica è il rapporto fa la quantità di prodotto ottenuto in moli e la quantità ideale di prodotto se la reazione andasse al 100% è quella a cui noi siamo o comunque siamo stati educati a mirare perché questo è importante che si abbiano delle ottime resi in qualsiasi modo si operi quindi si c'è l'attenzione sulla quantità di prodotto effettivamente ottenuto si guarda al successo della reazione, è un atteggiamento un po' egoistico se le reazioni sono termodinamicamente controllate si cercano le condizioni di concentrazione, temperatura e pressione più favorevoli per spostare l'equilibrio a destra secondo le chasserie e per le reazioni cineticamente controllate come sono molte di quelle della chimica organica si agisce attraverso la temperatura e la catalisi il tipo di catalizzatore per indirizzare e accelerare la reazione l'etomeconomia invece è il rapporto tra peso molecolare abbiamo visto del prodotto e somma dei pesi molecolari di tutti i reagenti quindi questa precede, deve precedere le considerazioni sulla resa cioè si devono progettare quindi design, reazioni che garantiscono la migliore economia atomica più che la resa poi dopo si penserà anche alla resa usando le opportune condizioni sperimentali e gli opportuni catalizzatori quindi si intende minimizzare lo spreco di materia che risulta tanto maggiore quanto minore è la quantità di prodotti secondari cioè degli scarti quindi ecco la filosofia del benign by design sintesi chimiche meno pericolose quindi anche questo si fa vedere bene agli studenti in laboratorio sostituire reagenti pericolosi con reagenti innocui per esempio una delle reazioni classiche sono le reazioni di metilazione e l'agente metilante che andava in gran voga ma fino a una ventina di anni fa ai miei tempi era il dimetilsolfato dimetilsolfato per cui per esempio si può mesilare un fenolo si lavora in ambiente basico e si ottiene il metilfenolo però questo è un prodotto altamente tossico corrosivo potenziale cancerogeno si rivolizza lentamente in acido solforico e metilidrogenosolfato quando è a contatto con le mucose per cui è stata studiata la sua applicazione come arma chimica e tuttora è studiata e invece un agente metilante green è il dimetilcarbonato eccolo qua perché? perché il dimetilcarbonato nella sua reazione gruppo uscente il metilcarbonato si decompone fornendo metanolo e CO2 come sottoprodotto quindi due sottoprodotti innocui quindi la stessa metilazione sempre usata facendo catalisi basica da il fenolo metilato il metossi benzene più la CO2 più l'enanolo quanto costa però questo reagente? se andiamo a vedere i prezzi correnti che è della Aldrich questo è il dimetilsolfato un litro 161 euro se andiamo a vedere il dimetilcarbonato un litro una 70 euro quindi oltretutto conviene conviene e dice però caspita però che faccio il laboratorio con i miei studenti ma 70 euro poi vabbè io vado a vedere su internet il carbonato e trovo per esempio questo che ha una spesa formidabile ma ha un costo formidabile 86 dollari da 0,86 centenari dollari a 1,30 dollari per chilogrammo però dopo andiamo a vedere l'ordine minimo sono 8000 chilogrammi quindi è difficile che un istituto tecnico faccia una spesa anche per non ci sarebbe un magazzino adatto dice questo chi lo vende? e questo lo vende una ditta cinese di Bushi pubblico questo è un prodotto industriale quindi voglio dire che a livello industriale costa pochissimo tra l'altro nella sintesi tradizionale era una sintesi brutta pericolosa perché si partiva dal fosgene e metanolo alta temperatura quindi fosgene poi più recentemente a fine degli anni nel secolo scorso è stata introdotta una sintesi green in cui si fa meno del fosgene e si ottiene in maniera pulita non pericolosa il dimetilcarbonato ecco un altro modo per diciamo ovviare ai reagenti pericolosi è preparare un in situ di reagente pericoloso e qui abbiamo un'altra delle nostre sintesi la bromulazione del trans-stilbeni metodo tradizionale e cosa si fa si piglia il trans-stilbeni e si scioglie di clorometano e si sgocciola a bromo però il bromo è un agente corrosivo ma sarebbe meno silisaldo oltretutto CH2Cl2 è un solvente clorato è bandito anche questo il metodo clinquale è quello di preparare in situ da acqua ossigenata e bromuro di idrogeno acido bromisico e si fa in esanolo il reagente il bromo perché? perché c'è questa classica reazione di ossio riduzione acqua ossigenata più bromuro in ambiente acido si forma bromo e acqua quindi reagente e solventi sono benigni il sottoprodotto è l'acqua e qui la reazione di cui abbiamo descritto si mette insieme il sun still bene poi ci si mette l'HBR al 48% acqua ossigenata a 10 millilitri di etanolo e si tiene al riflusso per un po' un 15 minuti e quindi ci si mette la nostra citatore e la nostra riscaldante e si ottiene quindi il prodotto con buona resa insomma una resa del 70% quindi questa è una una reazione che si può fare in un laboratorio studente contesto green il bromo è preparato in situ si evita l'uso di un solvente cronurato il sottoprodotto è acqua eliminare o minimizzare gli scarti costi di smaltimento e qui si introduce un altro fattore il fattore ambientale il fattore cioè massa del prodotto desiderato massa degli scarti cosa ci mettiamo fra gli scarti fra gli scarti ci mettiamo il reagente che non ha reagito il solvente e tutte le perdite diciamo che ci sono acqua esclusa questo è qualcosa che riguarda l'industria c'è un prodotto che può essere familiare per esempio lo spasmex che sarebbe un rilassante della muscolatura intestinale diciamo che è essenzialmente fluoroglucina quindi con gli spasmi della muscolatura liscia del tratto gastrointestinale è fluoroglucinologo quindi questa molecola è come si preparava con una sintesi che sarà all'ottocento è una bella ossidazione della trinitrotoluene con dicromato di potassio poi si riduce col ferro poi si tratta con acido clorillico a alta temperatura alla fine viene fuori il trifloroglucinolo e il fattore environmental factor 40 cioè cosa vuol dire 40 vuol dire che per un chilo di fluoroglucinolo ci sformano 40 kg di scarti quindi una qualcosa assolutamente insostenibile il metodo industriale è stato abolito cassato completamente e siamo passati a un metodo più biosintetico biosintetico del fluoroglucinolo anche questo dai primi anni di questo secolo allora se guardiamo gli scarti dell'industria chimica petrolio produce tonnellate da un milione a cento milioni di tonnellate per anno di scarti bulk chemical c'è la chimica sintesi grossolana chimica ammonina cargiosolforico clorosoda etanolo da 10.000 a un milione di tonnellate la chimica la chimica questa va invece da cento a dieci mila tonnellate infine prodotto la chimica farmaceutica da dieci a mille tonnellate quindi c'è un andamento ben definito diciamo ma se si va a vedere le factor cioè il rapporto che abbiamo visto fra i prodotto e scarti cioè fra scarti e prodotto si vede eccolo qua si vede che il più basso ce l'ha l'induzione del petrolio meno di 0,1 quindi per un chilo di petrolio io diciamo gli scarti di meno di un etto eh e bulk chemical da 1 a 5 per un chilo di bulk chemical di ammonia che io da 1 a 5 chilogrammi di fine chemicals di più e i prodotti farmaceutici che sembravano i più benigni in realtà sono quelli che hanno il massimo il maggior numero di scarti e questo perché quantità di scarti perché lì sono sintesi sofisticate fatte di molti passaggi protezioni di protezioni quindi ecco perché quindi c'è da lavorare più su questa sulla chimica farmaceutica che non sulla petrolchimica solventi ausiliari più sicuri ecco qui facciamo riferimento a un altro dipinto che è la scuola di Atene di Raffaello fresco bellissimo e qui nel mezzo ci sono due personaggi che sono noti Platone e Aristotele che si interessavano di scienza anche loro e che cosa dicono che cosa Aristotele dice qualcosa a Platone ma è scritto in greco che sa cosa vuol dire almeno ditecelo in latino corporal agunt nisi fluida se assoluta questo lo capiamo le sostanze non reagiscono se non sono fluide liquide o se non sono sciolte in un mezzo liquido in un mezzo liquido e questo ecco perché ci interessano tanto i solventi e qui sono subentrata diciamo non tanto l'aiuto quanto l'industria stessa che ha creato solventi IHS che pensano all'ambiente alla salute e alla sicurezza e che garantiscano biodegradabilità e presentano un ridotto potenziale di depletione dell'ozono c'è anche questo e ci sono i biosolventi quindi quelli prodotti con risorse rinnovabili come l'esanolo prodotto dalla fermentazione delle biomasse i fluidi supercritici come la CO2 supercritica i liquidi ionici con bassa tensione di vapore questi non evaporano e hanno prodotto l'industria stessa ha prodotto delle guide per la scelta dei solventi green e qui ce n'è per esempio uno che ha uno collaborato Pfizer la Smith-Kline Glaxo Smith-Kline e Sanofi e si vede non so quelli da non usare sono quelli banditi sono quelli neri per esempio quelli verdi vanno bene quelli gialli pensiamoci quelli rossi meglio di no quelli neri per esempio tra i neri cosa troviamo? Troviamo il normal pentano oppure tutti molti il benzene per esempio il benzene è bandito assolutamente non si prova più in laboratorio oppure qui ci sono i clorurati per esempio quello che i più cattivi sono quelli della della Sanofi la colonna a destra e nero ci sono il di clorometano il cloroformo il tè il cloro di carbonio per qualcuno sono indesiderabili per qualcuno da problemi no questo è meglio proprio non usarli e non li usano allora il solito studente si domanda ma qual è il miglior studente il miglior solvente da usare in laboratorio quale sarà il miglior solvente è nessun solvente e ci sono sintesi senza solvente e qui noi abbiamo scelto la preparazione del difenilchetone eccolo qua i reagenti sono permanganato di potassio solfato di rame quindi questa è un'ossidazione è un'ossidazione di un alcol fatta l'ossidante del permanganato il solfato di rame è il catalizzatore qui ci sono tutti i reagenti e questa è una di quelle sintesi che il il professor Iurinovic ha svolto in laboratorio e vediamo qualche cosa ci vuole ci vuole se sono solidi bisogna usare qualche cosa per mescolarli intimamente per esempio un classico mortaio e qui si macinano insieme c'è uno studente uno studente bravo nel laboratorio dell'istituto cattaneo si macinano insieme l'ossidante il catalizzatore per manganato e solfato di rame poi si mette in un palloncino che contiene il benzidrolo cioè il di si mescola con la spatola estendolo sul il palloncino sul pallone la mano quando comincia a scaldare allora si trasferisce si mette sopra un un refrigerante a bolle immerso in un bagnomaria e viene mantenuto sotto agitazione magnetica per un'ora poi alla fine viene insattato con due millilitri di normale sano che serve a a tirar via il di fenilchetone viene seccato poi la soluzione sul caso sul solfato di magnesio e poi dopo ha lasciato evaporare sotto K meglio sotto K si precipita con buona resa il di fenilchetone quindi contesto green assenza di solventi quindi non c'è un problema di tossicità e di smaltimento ossidanti inorganici non tossici si usa il permanganato che non è tossico o si fanno anche le azioni multicomponali la reazione di Bicinelli solvent free anche questa può essere fatta solvent free senza solvente benzaldeide aceto acidato di etile urea e come acido invece di un acido inorganico forte invece dell'acido solforico che usava Bicinelli un acido di Lewis come il cloruro di zinco quindi si mette tutto insieme qui non si usa nemmeno il il mortaio col pestello anche questo si mette a scaldare sotto acitazione magnetica poi si forma ma nemmeno all'ebollizione un bagno maria a 60 70 gradi si riprende il solido bianco con acqua non si scioglie in acqua si lava sul filtro con etanolo non si usano né si devono smaltire solventi catalizzatore non è EZNCl2 invece con acido forte l'unico sottoprodotto è acqua quindi una bella ovviamente reazione a tre componenti però diciamo oggi non c'è il mortaio e pestello dei nostri alternati alchimisti ma si usano dei mulini a palle per esempio già usati in industria farmaceutica ecco qua come funzionano ci sono delle palle di metallo acciaio inossidabile e ruotando plantumano polverizzano i reagenti una reazione classica è quella fatta con l'oxone come ossidante che sarebbe il mono per solfato di potassio eccola qua che si reagisce in soluzione col trimetossi benzene con l'uno due tre trimetossi benzene si forma tutta questa miscela questo miscuglio invece con la sintesi meccanochimica si forma soltanto e qui ragioni misteriose soltanto il due metossibenzo chinone si voleva soltanto questo chinone interessante che fra gli autori di questo lavoro c'era lo stesso Anastas che si è dedicato anche alla meccanochimica bene quanto tempo mi concede il chairman five minutes five minutes vabbè facciamo soltanto no ci sarebbe da andare avanti però ho rispetto della vostra pazienza diciamo ecco e allora vediamo soltanto l'iscaldamento cioè come va bene chimica sintesi organica ci sono le reazioni non catalizzate c'è un grande a passare una bella energia di attivazione in assenza di catalizzatore e allora come si si supera questa varia di energia ecco il riscaldamento il riscaldamento come lo facciamo lo facciamo col mantello riscaldante o lo facciamo con un bagno bagno a olio bagno a maria che altro possiamo fare e qui il problema è che quando si fa il riscaldamento col bagno a maria con uno di questi metodi diciamo si scalda prima il recipiente di reazione quindi poi si scalda il peso il peso riscalda la soluzione e se si riscalda un solido la parte essenziale del campione impiega più tempo a scaldarsi rispetto alla superficie allora ora c'è un altro modo per affrontare il problema è quello di usare un forno a microonde un forno a microonde perché perché il riscaldamento a microonde permette di riscaldare solo l'ambiente di reazione senza scaldare il forno il bagno a olio risparmiando tempo e energia e oltretutto se il campione è solido abbastanza piccolo si può essere scaldato uniformemente non prima l'esterno e poi dopo l'interno che non si scalda poi si può interrompere e ripartire interrompere e ripartire un metodo start e stop che col mantello riscaldante non si potrebbe fare e qui c'è per esempio come funzionano le cose con il riscaldamento convenzionale io ho un provettone e si vede che diciamo con la scala la scala di temperatura si vede che dopo un certo tempo l'esterno si scalda e l'interno l'interno dove c'è il campione è poco è poco riscaldato è poco riscaldato invece se io prendo faccio col microonde col microonde io riscaldo soltanto il reagente o il solvente se il solvente è polare quindi ho intanto questo risparmio di energia e poi questa prontezza del riscaldamento e le microonde ma solo questa questa diciamo possiamo vedere l'energia che corrisponde a tutto lo spettro l'energia della le radiazioni della fotochimica quelli che riguardano il legame che è sulle decine di chilocalorie per mole sono il visibile luce visibile e luce ultravioletta d'accordo qui invece con le microonde ci muoviamo nella zona dei megahertz dei gigahertz e in particolare le microonde i forni i forni a microonde sia quelli per la cucina che quelli per la sintesi chimica lavorano tutti a 245 gigahertz invece l'energia che è usata nel forno a microonde è di 0,037 chilocalorie per mole cioè non sono le decine di chilocalorie per mole sul legame cioè non entrano non interagiscono con il legame ma semplicemente controllano la rotazione delle molecole per esempio di una molecola di acqua le molecole polari per esempio l'acqua rispondono all'oscillazione del campo elettrico orientando alternativamente il loro dipolo e così facendo diciamo danno attrito ed è questo attrito che provoca l'effetto termico che da effetto termico provoca l'aumento di temperatura quindi ci vogliono o reagenti polari o se i reagenti non sono polari usare un solvente polare in modo che produca l'inalzamento di temperatura ora può anche essere e questa è una parte ancora da ignota o comunque molto da esplorare che può accadere che la molecola di reagente sia polare però lo stato di transizione sia polare allora in questo caso è sensibile alle microonde può essere stabilizzato lo stato di transizione quindi se c'è una reazione che ha più vie più percorsi il riscaldamento a microonde favolisce quella reazione che il cui stato di transizione è polare quindi tutto questo ha un effetto di regio selettività che è oggetto di studio oggetto di studio allora ma che forni che forni a microonde si possono quello domestico lo posso utilizzare beh sì se io in casa ho un forno a microonde che funziona poco oppure non mi piace più ne voglio uno più bello lo prendo e lo porto in laboratorio e faccio una reazione quindi una reazione di quelle ancora che abbiamo scelto è quella di la condensazione di Knovenagel in cui la benzaldeide reagisce con un acido di protico al carbonio ci hanno acetato di etile in questo caso ma va bene anche l'acido malonico il malonitrile e in questo caso si mette tutto in un pallone ci si mette poi un tubetto a a a a a a cl2 un tubetto a cloro di calcio e si mette nel microonde si mette nel microonde e la reazione è una reazione che viene funziona bene si ottiene un prodotto in forma pura all'80% che basta basta essere riflesso con acqua e lavato con acqua su Buchner su il filtro di Buchner però esistono anche dei forni professionali che vengono usati nel laboratorio chimico che costano qualche migliaio di euro questo è uno dei più famosi e che cosa hanno c'è la possibilità di fare il riflusso c'è la possibilità di fare agitazione con un agitatore meccanico insomma questi qui uno che cosa fa aprela ci mette il suo pallone poi il suo pallone fuoriesce con il refrigerante con l'agitatore quindi nella sintesi di riscaldamento nella sintesi chimica come è andato nell'ottocento c'era il Bunsen nel secolo scorso c'era la piazza riscaldante o comunque il riscaldamento elettrico in questo secolo questo dovrebbe essere sarà il secolo del riscaldamento con le microonde bene a questo punto ci possiamo fermare qui c'era una parte finiamo 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 qui ringrazio per l'attenzione e la pazienza grazie allora intanto buonasera a tutti e grazie di avermi invitato a parlare qui oggi quello che dirò prosegue il discorso che ha introdotto il professor Luigi Fabrizi io sono insegnante di un istituto tecnico nella mia scuola ci sono vari indirizzi sia chimica e materiali che biotecnologie sanitarie e i lavori che vi faccio vedere oggi sono proprio lavori che sono stati poi messi in campo a scuola quindi diciamo questa mia presentazione è un po' più una presentazione per chi lavora e mette le mani in pasta tutti i giorni che vuol dare anche qualche suggerimento proprio per tra virgolette rivendere questi percorsi ai vostri studenti o comunque prendere degli spunti che potete poi usare in classe allora io ho diviso la presentazione in tre parti ora cercheremo in questo poco tempo insomma di vederle tutte e tre volevo fare una piccola introduzione cappello introduttivo sulla sicurezza nel laboratorio chimico perché è un aspetto che in qualche modo si lega a quanto abbiamo visto prima alla chimica sostenibile alla green chemistry e poi presenterò due percorsi uno rivolto ai ragazzi del primo biennio che è proprio un percorso introduttivo ai principi di base della green chemistry e un altro invece è un percorso un pochino più evoluto per ragazzi del triennio che riguarda soprattutto le ossidazioni green degli alcoli che si può fare tranquillamente in laboratorio l'abbiamo fatto un po' in tutte le salse si può fare tranquillamente anche in un liceo scientifico se avete un laboratorio un minimo attrezzato ma non serve proprio così tanto allora il laboratorio di chimica per chi ce l'ha a scuola e chi ci lavora tutti i giorni sa che lo possiamo vedere come una specie di teatro dove ci sono tanti attori dentro i protagonisti del laboratorio sono sicuramente gli studenti gli studenti però hanno un livello di preparazione diverso perché crescono negli anni posso avere una classe più preparata una classe meno preparata e quindi io devo sempre essere consapevole del grado di manualità dei miei studenti di cosa possono fare e di cosa non possono fare per operare poi anche in sicurezza e ci sono gli insegnanti che progettano le loro esperienze che svolgono l'attività di supervisione quando siamo in laboratorio c'è l'annoso problema dell'insegnante tecnico pratico non so se ci sono insegnanti tecnici pratici in sala o a casa perché alle volte il coordinamento tra chi gestisce la parte di laboratorio vedo qualcuno che annuisce e chi gestisce la parte di teoria non è così sempre profico o c'è sempre un'intesa così buona è però un aspetto molto importante per la didattica c'è l'assistente tecnico che dovrebbe aiutare in tutto questo grande teatro a tenere in ordine i vari attrezzi di scena ma in realtà purtroppo spesso non è così poi c'è il responsabile del laboratorio responsabile del servizio di protezione e di prevenzione e protezione che insomma si occupano più della parte di sicurezza ecco tutto questo noi ci troviamo come docenti a gestire una situazione abbastanza complessa quindi anche quando il professor Fabrizi dice proviamo a fare questo laboratorio abbiamo anche visto quando l'abbiamo fatto alla squadra del re che qualcuno dice ma come faccio alla sicurezza di qui e di là sono aspetti molto importanti però ecco io mi sento di dire che non dobbiamo essere spaventati altrimenti ci ingessiamo e non riusciamo a far più nulla la sicurezza è un aspetto importante che va gestita nella maniera giusta ricordo anche giusto un accenno perché penso lo sappiate tutti però vale la pena ricordarlo che dal momento che i nostri studenti entrano nel laboratorio sono equiparati ai lavoratori e quindi si applicano tutte le norme del decreto legislativo 81 del 2008 e si applica anche un'altra normativa non so se questa la conoscete che dice una legge un po' vecchiotta del 67 che poi è stata aggiornata nel 2016 che dice guarda che se c'è un fanciullo o un adolescente quindi ragazzi minorenni c'è tutta una lista di sostanze a cui questi ragazzi non possono essere non possono essere esposti che è molto più restrittiva di quella che pensiamo noi quindi se uno va a vedere l'articolo 6,1 c'è un allegato poi con tutta una lista di roba praticamente non si può fare nulla quindi come tutte le cose un po' all'italiana fatta la legge trovato in qualche modo il modo di fare delle deroghe e effettivamente poi l'articolo 6,2 dice guarda in deroga tutti questi divieti se te devi fare delle esperienze a fini didattici si può andare in deroga a tutte queste cose però deve essere una deroga per indispensabili motivi didattici o di formazione professionale e soltanto per il tempo strettamente necessario la formazione svolta in quel laboratorio quindi questo ci tranquillizza un po' da questo punto di vista e quindi c'è anche tutto un problema che è vero che i nostri studenti per la legge diventano come lavoratori ma sfido chiunque a dire che lo studente che è il laboratorio è come un lavoratore che in azienda ci sta otto ore al giorno per tutto l'anno c'è capito i tempi di esposizione e anche le cose che si fanno non sono paragonabili però per la normativa è così quindi al primo posto chiaramente noi insegnanti dobbiamo mettere la tutela degli studenti sono i nostri ragazzi quindi da una parte non abbiamo nemmeno la possibilità di eliminare tutte le sostanze pericolose perché se no si va a fare quella che chiamiamo la chimica in cucina quindi si sminuisce anche l'essenza didattica del laboratorio no? Dall'altra secondo me c'è anche lo studente deve acquisire anche lui stesso una cultura della sicurezza perché quando poi noi diplomiamo uno studente a un istituto tecnico e va a lavorare in un'azienda deve essere consapevole di come agire poi nel mondo del lavoro e poi quelle esperienze che sono fondamentali devono poter essere svolte a scuola quindi ognuno di voi avrà il proprio bagaglio di esperienze e su questo ci rifletterà tutti i giorni ecco io volevo mettere solo in luce un aspetto che si collega a quello che dicevamo prima col professor Fabrizi cioè oggi giorno come siamo messi la normativa ci dice una cosa importante ci dice sicuramente gli agenti cancerogeni mutageni non si possono usare per ovvie ragioni tutti gli agenti chimici pericolosi per la salute che sono valutati nel DVR al di sopra della soglia di rischio vanno eliminati ma ci dice anche questo la normativa ci dice guarda che la sostituzione di reagenti pericolosi non è solo di moda perché è green ma la normativa prevede che laddove è possibile sostituirlo noi siamo obbligati a farlo perché se no c'è il penale questo lo dice la normativa quindi qui in qualche modo la normativa va d'accordo con i principi della green chemistry se io trovo una sintesi che può essere fatta con sostanze meno pericolose è bello farla vedere agli studenti nel contesto green ma in qualche modo è anche un nostro dovere professionale sostituire la sostanza pericolosa con qualcosa di meno pericoloso ecco questo è un aspetto importante che magari non ci pensiamo ma che ci dovrebbe far riflettere anche noi insegnanti per andare alla ricerca di vie alternative per non sminuire la didattica e continuare a fare bene il nostro il nostro lavoro e qui per esempio sicurezza green chemistry vanno d'accordo quindi per esempio il terzo principio della nostra del nostro elenco di 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 leggi il quinto il dodicesimo quindi cercare di creare sintesi chimiche più sicure usare solvente usilari più sicuri cercare di prevenire gli incidenti sono tutti i principi della green chemistry ma con cui noi in realtà forse già ci confrontiamo da tempo senza pensare che questi sono principi della green chemistry a maggior ragione oggi facciamo un'unione di questi due aspetti bene questa era un po' un'introduzione detto questo vi volevo presentare il primo percorso di introduzione alla green chemistry questo percorso viene da un'idea che è stata sviluppata da da Raffaele Dinelli che è uno studente che si è allorato da poco chimica industriale all'università di Pisa che nella sua tesi di laurea ha discusso queste ha discusso delle metodologie metodologie didattiche innovative per introdurre la green chemistry nella scuola e nei percorsi PCTO che vengono poi svolti a livello universitario e qui presentare tutto sarebbe diciamo un po' un po' complesso faccio un po' riassunto di un pezzettino di questa tesi su cui abbiamo lavorato un po' insieme che è destinata appunto ad alunni del primo BN o della scuola superiore di secondo grado in qualunque indirizzo va bene insomma perché è proprio un percorso di base che non richiede conoscenze di chimica avanzate qui vogliamo dare l'idea agli studenti quali sono gli obiettivi è fargli comprendere cosa vuol dire chimica verde ok fargli acquisire un po' di consapevolezza delle problematiche ambientali e cercare di sapere anche applicare i principi quindi il percorso sostanzialmente si divide in una prima parte in cui si vanno a vedere un po' quali sono i principi si fa un collegamento con l'agenda 2030 e poi c'è un'attività di progettazione in cui gli studenti cercano di mettere e applicare questi principi pochi principi che hanno imparato però su un caso pratico quindi una prima lezione per esempio potrebbe essere strutturata così facciamo un bel brainstorming con gli studenti li facciamo vedere dei video facciamo notare sempre questa doppia faccia della chimica da una parte la chimica che aiuta è benefica la chimica dei farmaci dei materiali le fonti di energia però è sempre l'altro lato della medaglia la chimica che viene sempre percepita dall'esterno come quella che si occupa delle sostanze tossiche che inquina che è legata alle problematiche ambientali quindi noi dobbiamo come insegnanti secondo me cercare di scardinare queste idee e qui abbiamo selezionato una serie di video che possono essere interessanti proprio per come introduzione a questo argomento si possono fare dei lavori di ricerca di gruppo delle discussioni in classe e andare ad allacciarsi con qualche appunto elemento dell'agenda dell'agenda 2030 da tutte queste discussioni alla fine tiriamo fuori delle chiavi di lettura della green chemistry i ragazzi capiscono che bisogna valorizzare gli scarti bisogna cercare di ridurre i costi energetici qui chiaramente non facciamo il decalogo che abbiamo visto prima facciamo una cosa un po' più semplificata sono ragazzi di prima di seconda però gli diamo un po' l'idea cercare di ridurre i solventi eliminarli siamo tutti d'accordo su questo però se allo studente glielo raccontiamo e non glielo facciamo fare gli rimane lì campato per aria però se siamo in una scuola dove non c'è il laboratorio che li faccio fare allora abbiamo pensato a un percorso che è un che lavora in qualche modo per analogia cioè noi chiediamo allo studente di andare a progettare una specie di processo industriale che ci possiamo immaginare in realtà lo vedrete che poi è molto semplificato pensiamo a questo processo e in base a quello che abbiamo imparato cerchiamo di renderlo più green però questi studenti la chimica ancora non la sanno sono arrivati da poco magari sono al primo anno andiamo a parlare di queste cose come si fa? e beh si può partire da un qualcosa che è alla loro portata cioè trattare un argomento che loro conoscono bene perché lo vedono nella vita di tutti i giorni e quindi come si può fare? appunto lavorando per analogia parto da una da un processo molto semplice che non c'entra nulla con la chimica ma a me mi interessa il processo mentale che mi porta all'applicazione dei principi il processo è questo cioè cucino un piatto di pasta quindi penso al mio processo tra virgolette chimico sarebbe come cucino un piatto di pasta e come posso ottimizzare questo processo in chiave green e quindi qui va scatenata la logica da una parte va scatenata anche la creatività perché è una sfida un po' anche creativa si presta bene tutto questo se uno lo vuole fare in maniera molto strutturata si può fare a tanti livelli uno può applicare proprio la metodologia dell'iterative design for active learning che se andate un po' sul sito dell'Indire spiega un po' come fare tutta una procedura un po' strutturata si può fare anche a livello più semplificato se uno c'ha meno tempo questo dipende un po' voi insegnanti quanto tempo volete dedicarci su cosa volete focalizzare l'attenzione però in generale questo è un po' lo schema della metodologia ideal ma non ci starei a perdere tempo perché poi voglio andare al sodo essenzialmente come la strutturerei un percorso di questo tipo vabbè la prima lezione cerco di presentare qual è il problema e di far capire ai ragazzi cosa vogliamo fare presento attività ripasso i concetti della green chemistry ripasso anche qual è il processo perché secondo me qualcuno non sa nemmeno come si fa un piatto di pasta perché i ragazzi di oggigiorno di 13-14 anni non sono mica in grado di farsi un piatto di pasta da soli molte volte si cerca di andare a sottolineare anche l'analogia con un processo industriale ora vedremo anche in che modo si fa tutta questa bella discussione e poi si cerca di esporre le varie riflessioni fatte da ciascun gruppo e si fa si cerca di mettere nello suo bianco quello che è lo schema tradizionale quindi come si fa un piatto di pasta un piatto di pasta prepara una soluzione acqua e sale nella pentola poi cosa faccio riscaldo l'acqua all'ebollizione metto la pasta e mescolo dopodiché separo per filtrazione la pasta cotta dalla soluzione da una parte ho il prodotto finito la pasta cotta dall'altra parte ho un sottoprodotto cioè l'acqua salata bollente questo è un po' il processo tradizionale e qui ho che poi la butto nell'acquaio e quindi scarico l'acqua nell'acquaio che poi andrà a raffreddarsi e ho queste criticità in questo processo ho due punti in cui devo fare un bel riscaldamento ho un sottoprodotto che è caldo che deve essere raffreddato e quindi guardando un po' questo processo la sfida che io magari faccio a gruppi è come posso rendere più green questo processo ora se avessimo tempo lo farei fare anche qui però non ce l'abbiamo quindi lo diamo già per fatto perché è un esercizio mentale interessante questo sembra banale ma poi quando uno ci si mette sono tanti dispunti e allora vediamo un po' quindi siamo seguo la metodologia ideale è il punto 2-2 ho fatto la presentazione di tutto il problema ora vado a ideare quale potrebbe essere la soluzione allora pensiamo un po' ma se io ho da una parte una roba che deve essere scaldata una roba che deve essere raffreddata come si può fare? si potrebbe utilizzare un fluido già caldo per andare a scaldare un fluido che è freddo cioè quello che si chiama negli impianti chimici un recupero termico per chi fa tecnologie chimiche industriali all'istituto tecnico questo poi diventa fondamentale quando si disegnano gli schemi di impianto cioè un conto è portare l'acqua da 20 a 100 gradi un conto se all'ebollizione ce la porto che magari è già preriscaldata prima quindi magari posso vedere una specie di preriscaldamento in questo mio impianto e dove lo prendo il calore per il preriscaldamento è magari quello dell'acqua che ho scolato prima in questo ipotetico impianto posso recuperare il prodotto il sottoprodotto quindi continuo a consumare cloruro di sodio o c'è un modo di recuperarlo qui magari lo studente si può sbizzarrire e ripensare alle prime lezioni di chimica sulle tecniche di separazione di un miscull e vabbè ci sono varie soluzioni poi scaldo col gas ma magari una piastra a induzione mi fa risparmiare energia specialmente se quella piastra a induzione è alimentata da un sistema fotovoltaico che ho sul tetto della casa e anche quello è rendere più green il processo oppure mi affido al nostro premio Nobel che dice ma facciamo proprio una modifica del processo stesso cioè non bolliamo la pasta per dieci minuti ma bolliamola solo per i primi due minuti poi spengiamo il gas e risparmia anche questo se il prodotto finale ha la stessa qualità ho ottimizzato in chiave green il processo tutte queste serie di cose ci fanno sì che posso fare uno schema rivisitato sono al punto successivo della metodologia idea al progetto e lo posso progettare così quindi preparo la soluzione faccio uno step di preriscaldamento arrivo all'ebollizione aggiungo la pasta riscaldo non per tutto il tempo di cottura ma per due minuti faccio la continua la cottura a fuoco spento separo per filtrazione ottengo la pasta cotta c'ho sempre il mio sottoprodotto che questa volta non lo butto nel lavandino ma magari lo potrei utilizzare ipoteticamente in un impianto che lavora in continuo per andare a addio a preriscaldare l'acqua prima dell'ebollizione poi gli studenti si diventano un sacco a fare questa cosa perché non se l'aspettano è una cosa su cui lavora poi vengono fuori le idee più strane bisogna riportarli sulla carreggiata giusta ma è un lavoro molto creativo che di solito insomma piace tutto questo poi vabbè ci sono uno può andare avanti e fare anche tutti gli altri punti ma insomma il nocciolo era questo tutto questo poi uno può anche dire a livello un pochino più alto ma tutto quello schema lì lo sapreste disegnare secondo la normativa Unichim e trasformarlo in uno schema di un impianto questo è quello che fanno di solito i ragazzi al terza, quarta e quinta del triennio chimica e materiali e se uno ci si mette quello schema che abbiamo visto si può scrivere in una maniera un po' semplificata in questo modo quindi ho trasformato la pentola in un reattore con un miscelatore ho trasformato la parte di preriscaldamento con uno scambiatore in cui entra un fluido caldo e c'è un recupero termico e quindi volendo uno ci lavora sopra questa è una cosa proprio tipica dei studi tecnici bene ecco questo vi ho dato un po' un'idea di un percorso che può essere fatto penso in qualunque tipo di scuola dopo aver fatto chiaramente una prima introduzione a cosa vuol dire i principi della green chemistry cosa vuol dire sostenibilità penso che sia una cosa interessante che rimane poi agli studenti entrando un pochino più nel merito della chimica invece quello che vi propongo adesso è un percorso un pochino più strutturato sull'ossidazione degli alcoli perché l'ossidazione degli alcoli l'ossidazione degli alcoli nel curriculum della chimica organica è un argomento che si fa sempre negli studi tecnici ma penso anche nei licei quando si parla di chimica organica l'ossidazione delle molecole organiche chi è la molecola più ossidata più ridotta è interessante perché è vero che è l'ossidazione del composto organico ma l'ossidazione è una reazione redox e quindi c'è il collegamento con tutta la chimica delle reazioni redox e quindi devo aver imparato a bilanciare una reazione redox se non capisco cosa sta succedendo mi permette di affinare le mie tecniche di laboratorio e anche interessante lo vedremo c'ha degli agganci interessanti per la parte di chimica analitica specialmente questo percorso qui che vediamo allora vabbè come devo fare per ossidare un alcol vabbè ho due possibilità intanto ho parto da un alcol primario da un alcol secondario a seconda dei casi uso reattivi diversi ma sostanzialmente mi ci vuole un agente ossidante l'agente ossidante per eccellenza è il bicromato che penso sia bandito da qualsiasi laboratorio scolastico quindi anche volendolo usare rimane scritto sulla carta facciamo le lezioni di chimica organica si usa il bicromato rimane sulla penna e basta oppure se voglio fare il chimico un pochino più fine mi voglio fermare al chetone senza andare al dede scusate senza andare all'acido carbossilico c'ho anche l'altro reattivo che di solito si trova sui libri di testo il cloro cromato e così via tutti reattivi tutt'altro che green ah questo è fantastico perché questo è il mio libro di testo che ho conservato di quando ero studente all'istituto tecnico a Livorno Zanichelli edizione 98 libro degli studenti delle scuole superiori capitolo 16 ossidazione degli alcoli quella era la reazione proposta si prende un alcol secondario si tratta con toluena riflusso in presenza di anidride cromica e si ottiene il prodotto una bella esperienzina sicura da fare agli studenti di chimica no? e vediamo un po' come possiamo passare da questo a qualcosa di un pochino più green allora noi abbiamo abbiamo fatto varie proposte ora ve ne farò vedere solo un paio però abbiamo queste proposte la prima cambio l'agente ossidante invece di usare il bicromato uso la candeggina che funziona bene come agente ossidante e quindi il contesto green qui è l'impiego di un agente ossidante più green che è meno pericoloso la reazione che ha fatto vedere prima il professor Fabrizi solvent free elimino il solvente ossido l'alcol con una miscela per manganato solfato di rame l'abbiamo fatta col definire il metanolo funziona anche col ciclo esanolo quindi si possono usare diversi substrati bastano che sia substrati secondari qui elimino il solvente la miscela ossidante più green se uno è un pochino più un insegnante che magari ha un background di chimica organica non come me che vengo da un altro contesto ma gli piace lavorare con catalizzatori particolari anche questo è interessante perché qui si usa un catalizzatore radicalico che permette di ossidare gli alcoli primari c'è una metodica che abbiamo messo nelle dispense però bisogna comprare un po' di reattivi che sono un pochino più costosi o se no questo è interessante soprattutto anche per chi a licei fa la parte di biochimica è andare a utilizzare l'enzima cioè faccio un'ossidazione dell'alcol utilizzando l'alcol di idrogenasi questo è molto interessante perché se lo faccio lo posso fare per esempio sull'etanolo e quindi qui chiaramente non è che ci faccio un litro di prodotto ossidato perché qui le quantità sono micro micro però per far capire il concetto che si può usare anche una cosa catalizzata è interessante soprattutto è interessante perché a livello analitico questa reazione qui si usa per la quantificazione dell'etanolo per esempio nel sangue perché utilizzando come substrato il NAD si può seguire per via spettrofotometrica e quindi si fa la determinazione quantitativa dell'etanolo in un campione allora di tutto questo della solvent free abbiamo già parlato prima e io mi soffermerò soprattutto su quella con la candeggina ok ora in realtà ci abbiamo messo anche un paio di slide su quella solvent free ma insomma è inutile perderci tempo l'abbiamo già vista l'aspetto interessante di quella solvent free quindi di quella con la miscela per manganato e solfato di rame è appunto l'assenza del solvente che è interessante non solo dal punto di vista della green chemistry ma è interessante proprio perché i ragazzi sono sempre abituati a vedere le reazioni in un'unica fase sostanzialmente e io quando l'ho proposta ho visto degli occhi così un po' ma come fa avvenire questa reazione che sono due solidi sono rimasti proprio incuriositi da questo aspetto perché di solito non si vede appunto una reazione che avviene a fase a fase eterogenea qui c'è lo schemino l'abbiamo già visto prima con qualche immagine la cosa interessante di questa c'è tutto il video il video ora lo provo proviamo se lo facciamo vedere cosa si intende per video se non ci abbandona internet però io non so se queste slide poi ve le possiamo d'ecco il link non c'è non funziona perché non va ce l'ho messo vabbè vediamo se dopo c'è se no poi ci andiamo direttamente da youtube per queste sintesi noi abbiamo fatto un video in cui si riprende proprio le parti fondamentali ed è un video volutamente fatto senza commento o senza scritte che dà la possibilità all'insegnante che conosce la reazione perché insomma sa come funziona di proiettarlo in classe fermarsi discutere con gli studenti fare domande cioè nel video non c'è già la risposta la risposta deve venire dalla discussione che l'insegnante conduce con gli studenti poi in realtà due di questi sono stati anche sottotitolati però sono video proprio separati quindi ce l'avete con e senza i sottotitoli questo per cosa serve serve per esempio se io voglio farla vedere non c'ho il laboratorio perché magari nella mia squadra non c'è ma per far capire cosa succede in una reazione arriviamo invece al punto più interessante quello un po' più nuovo sulla sull'ossidazione utilizzando la candeggina commerciale allora anche il libro di test si è evoluto la versione del 2019 ha cancellato l'ossidazione con la nitride cromica e propone l'ossidazione con la candeggina quindi non è che ci siamo inventati niente di nuovo ripreso quella rivisitata però inserita in un percorso didattico strutturato allora come funziona allora questo è destinato ad alunni del secondo biennio licei scienze applicati IT chimico andiamo ad conoscere i principi della green chemistry applichiamolo alla sintesi e abbiamo aggiunto anche una parte interessante perché è venuta dagli studenti la chimica organica green ma si può fare anche la chimica analitica green e allora ci siamo inventati una cosa che vi facciamo vedere dopo ok cosa serve di preconoscenze vabbè sapere cosa sono le reazioni di ossidoreduzione saper fare una titolazione redox conoscere un po' la reattività degli alcoli e la scala di ossidazione dei composti organici questo è un po' il percorso è un percorso trasversale multidisciplinare noi l'abbiamo fatto io l'ho fatto insieme alla mia insegnante di io insegno chimica analitica in questa classe dove l'ho sperimentato la mia collega fa chimica organica l'abbiamo fatto anche insieme all'insegnante di inglese perché nella prima parte l'insegnante di chimica organica ha lavorato sui principi della green chemistry e l'insegnante di inglese li ha ripresi tutti quindi proprio dal decalogo originale abbiamo preso dei pezzettini di libro hanno lavorato su queste frasi quindi anche con la terminologia giusta hanno lavorato sulla parte quindi c'entra anche l'educazione civica perché non tutto questo percorso l'abbiamo filato dentro l'educazione civica e così abbiamo fatto le nostre dieci ore di educazione civica poi c'è la parte di progettazione attenzione non è che prendiamo la metodica e la seguiamo pari pari abbiamo detto la inseriamo in un contesto di percorso didattico quindi guardiamo la reazione guardiamo chi sono i reagenti facciamo dei calcoli preliminari per capire quali sono le quantità da utilizzare perché non è immediato andiamo a fare la sintesi e poi facciamo l'analisi quindi è tutto un po' abbiamo lavorato insieme chimica organica chimica analitica si parte dalla candeggina beh candeggina cos'è? sostanzialmente è una soluzione acquosa di ipoclorito il problema è che l'ipoclorito ha concentrazioni variabili 5-10% e noi abbiamo verificato che quello che c'è scritto sulla bottiglia quasi mai coincide con la concentrazione vera un po' perché la candeggina tende anche a decomporsi per esempio anche se compro la bottiglia la tengo un po' lì e questo è molto importante perché quanta candeggina devo usare per la reazione? prima devo sapere che candeggina ho sotto mano perché se no non mi torna niente l'abbiamo provata la prima volta al buio e la reazione non ci veniva niente poi ci siamo accorti che la candeggina praticamente era era ipoclorito molto molto diluito e allora abbiamo ricorretto il tiro vabbè le reazioni della candeggina ci interessa al giusto ci interessa invece questo chi è l'agente ossidante? l'agente ossidante non è l'ipoclorito di sodio ma è l'acido ipocloroso che viene sviluppato in situ dentro il pallone di reazione grazie alla reazione tra l'ipoclorito e l'acido acetico che viene aggiunto quindi è un po' una specie di come abbiamo visto prima lo sviluppo in situ il reattivo parto dalla candeggina aggiungo l'acido acetico e l'acido ipocloroso scusate è quello che fa l'agente ossidante quindi in questa reazione si sfrutta il potere ossidante dell'ipoclorito vado sulle tabelle dei potenziali di riduzione standard chiedo ai ragazzi ma quant'è questo potenziale? beh 1,54 insomma per potenziali di riduzione quindi ce la farà ossidare il ciclo esanolo al ciclo esanone e si cerca il potenziali di riduzione del ciclo esanolo si guarda se sta più su se sta più giù e così via la reazione è questa ciclo esanolo ipoclorito di sodio acido acetico scritto catalizzatore ma in realtà è vero che viene rigenerato però poi se ne mettono quantità che non sono tipiche da catalizzatore perché l'acido acetico aiuta anche un po' a far avvenire la reazione i sottoprodotti sono cloruro di sodio e acqua questa reazione c'è tutto il discorso delle redox cosa gli succede a quel povero carbonio del ciclo esanolo è da carbonio zero va a carbonio più due e il cloro dell'ipoclorito va da più uno a meno uno quindi due elettroni scambiati in questa reazione si nota che il rapporto stechiometrico è uno a uno di solito per far venire bene le cose l'ipoclorito deve essere perlomeno 20-25% in eccesso in moli rispetto al ciclo esanolo quindi bisogna operare in eccesso di ipoclorito e però devo conoscere quanto è il titolo della candeggina se no rischio di fare un'aggiunta che non ha senso va bene per gli alcoli secondari non la fate su quelli primari perché viene un pasticcio si formano sottoprodotti allora come si fa a determinare quanto volume di candeggina devo usare in questa reazione ecco quindi qui è il primo problem solving che hanno da fare i ragazzi collegamento con la chimica analitica perché di solito quando c'è tornato bene ma penso che come curriculum nel litichimico quando si fa gli alcoli a chimica organica parallelamente analitica si fanno le titolazioni redox quindi torna bene ci siamo proprio trovati pari pari e cosa succede la determinazione dell'ipoclorito si fa con una titolazione una titolazione redox classica iodometrica ve la spiego semplicemente per chi non l'ha mai vista è una titolazione che viene fatta in due step cioè una prima reazione in cui io ho il mio campione l'ipoclorito da titolare lo faccio reagire con l'olio duro di potassio si sviluppa iodio e lo iodio viene titolato con una soluzione di teosolfato di sodio metodo classico che si fa proprio base base tutto funziona perché se ragioniamo con gli equivalenti chimici gli equivalenti di ipoclorito sono uguali a quelli di iodio sviluppato e sono uguali a quelli del teosolfato quindi la mia quantità incognita è l'ipoclorito e la determino perché so quant'è la quantità che ho misurato di teosolfato che è quello che mi viene dalla titolazione volumetrica quindi se vado in laboratorio diciamo la prima reazione è questa la vedete lì l'ipoclorito reagisce con un eccesso di ioni ioduro di nuovo una reazione di redox si sviluppa iodio e sostanzialmente funziona così la titolazione prendo una liquota di campione da titolare lo metto in una beuta aggiungo un eccesso di ki cioè di ioduro di potassio 2 grammi aggiungo 15 ml di acido solforico 2 molare perché la reazione la vedete lì cosa c'ha nei reagenti con la reazione c'ha l'h più avviene in ambiente acido uso l'ambiente acido e la beuta mi si diventa tutta marrone perché perché si sviluppa iodio quel colore bello bruno della tintura di iodio cosa succede quando sono a questo punto immediatamente vado a titolare seconda reazione lo iodio sviluppato lo titolo col tiosolfato faccio una bella soluzione di tiosolfato lo metto nella buretta titolo man mano che titolo il colore dello iodio diventa chiaro perché lo iodio sta reagendo e quindi se ne va quando è diventato chiaro aggiungo la salda d'amido che mi fa da indicatore la soluzione diventa di un bel blu intenso continuo a titolare fin da quando il blu diventa in colore quindi si vede proprio bene il punto finale è una titolazione semplice questa è una titolazione semplice tra l'altro qui volendo c'è tutto anche il discorso di come mai si usa la salda d'amido questo uno lo può approfondire o come no lo lasciamo decantare lì da una parte ecco e qui diciamo vabbè ma tutti questi reagenti immaginate una classe anche se lavora a gruppi sette gruppi di lavoro 15 ml di acido solforico a gruppo 2 grammi di ki a ogni titolazione chi lo compra a ki sa che costa anche una certa cifra si può economizzare questa titolazione ma si può anche rendere più green nel senso utilizzo meno reagenti perché utilizzare meno reagenti è un metodo per andare verso la sostenibilità e allora ragazzi si dice ma invece di utilizzare tutto sto volume di titolante non si può fare con un volume più ridotto allora ci siamo messi lì a pensare e abbiamo trovato una soluzione banale però ingegnosa cioè che è questa abbiamo sostituito la buretta con una pipetta graduata da 2 mililitri che ha una sensibilità di più o meno 0,01 cosa ce l'abbiamo messo sopra? Ce l'abbiamo messo sopra una siringa di quelle da iniezione normale da 10 mililitri con l'ago abbiamo fatto un raccordino di silicone tra l'ago e la pipetta la testa della pipetta abbiamo messo sul fondo della pipetta un puntale di quelli delle Gilson di plastica un puntale di plastica cosa serve tutto questo baradam perché noi vogliamo che da quel puntale escano delle goccioline che siano le più piccole possibili più piccole la goccia meglio riesco più risoluzione se volete e tutto questo sistema funziona abbastanza bene perché noi siamo riusciti a ridurre di 10 volte cioè scallo di 10 volte tutte le quantità e sostanzialmente ottengo lo stesso risultato quindi questa è un'ottimizzazione green della parte analitica applicata a questa cosa dove gli studenti si sono costruiti questo strumento ci abbiamo pensato l'abbiamo ragionato insieme insieme al mio etp l'abbiamo realizzato e abbiamo fatto queste micro burettine vabbè poi c'è tutta la parte di calcoli perché faccio la titolazione e poi cosa ci faccio vabbè faccio la titolazione guardo un po' come sono i rapporti stechiometrici mi accorgo che se ragiono in moli lo faccio in moli se siete abituati in equivalenti lo fate in equivalenti questo dipende da voi se lo faccio in moli il rapporto è quello lì sostituisco alle moli c per v faccio tutti i miei calcolini ottengo la concentrazione dell'ipoclorito questa concentrazione dell'ipoclorito mi serve ah qui vedete il risultato di tre titolazioni fatti con quel sistema un millilitro di campione il volume equivalente è quello e lì c'è la concentrazione credo già riportata col fattore di diluizione se non sbaglio fatto questo questa è la reazione che abbiamo visto prima si parte da due grammi di ciclo esanolo due grammi di ciclo esanolo sono 20 millimoli perché il ciclo esanolo pesa più o meno 100 devo utilizzare un 20-25% grazie al risultato della titolazione vado lì e vedo che mi ci vogliono 30 millilitri della mia candeggina che ha quella molarità lì prendo un'altra candeggina di un'altra marca e bisogna farci la titolazione perché se no c'è un volume che non ha senso come avviene la reazione si può fare in tanti modi qui vedete la versione semplificata nella beuta con un sistema semplificato nel video che trovate è fatto un pochino più elegante c'è un pallone a tre colli c'è un imbuto gocciolatore ma insomma si può fare anche un pochino più dozzinale avviene lo stesso il video è solo per figura diciamo così per farla più elegante due grammi di ciclo esanolo che è liquido con il liquido aggiungo 5 mililitri di acido acetico glaciale 30 mililitri di candeggina devo stare attento a una cosa questa è interessante la reazione è fortemente esotermica quindi se tenete in mano la beuta proprio inizia a scaldare consiglio che vi do preparate un bagnetto a ghiaccio appena aggiunti o magari anche l'aggiunta stessa dei reattivi la fate direttamente dentro con la beuta in mezzo nel bagno a ghiaccio perché scalda parecchio mettete nel bagno a ghiaccio questo è il meccanismo di reazione vi dicevo dell'acido acetico lì si vede bene l'acido acetico protona l'ipoclorito si forma l'acido epocloroso l'acido epocloroso ossida il ciclo esanolo e il protone che viene tolto dal ciclo esanolo viene ripreso dall'acido acetico e quindi l'acido acetico alla fine ritorna acido acetico per questo lo scritto catalizzatore la reazione del laboratorio questo è il sistemino sofisticato ma insomma funziona anche con la beuta con la pipetta graduata qui cosa abbiamo fatto abbiamo caricato nel pallone il ciclo esanolo l'acido acetico poi abbiamo messo il pallone del bagno a ghiaccio la candeggina nell'imbuto gocciolatore e sgocciolata goccia goccia e la candeggina va aggiunta lentamente e non tutta insieme goccia goccia sotto forte agitazione lì c'è l'ancoretta sotto che gira questo è carino perché si inizia subito a vedere se voi guardate il liquido è limpido all'inizio come si forma il ciclo esanolo si vede come una formazione di una patina oleosa sopra perché non si scioglie bene in quell'ambiente di reazione lì si vede proprio che si forma e poi si comincia a sentire l'odorino del chetone che è caratteristico si separa con l'imbuto separatore si può utilizzare tranquillamente etere a differenza del nostro amico libro di laboratorio che dice di usare di clorometano ma insomma con l'etere viene benissimo lo stesso si fa andare via l'etere a rotavapor se un ciorro a rotavapor insomma si lascia svaporarli da una parte non è un problema e alla fine quello è il prodottino che abbiamo ottenuto dalla reazione che poi può essere purificato vediamo se qui il video va oh qui il link c'è così tanto due minuti poi abbiamo finito questi sono i video di cui vi parlavo devo cliccare in via secondo voi sì perché non va non mi considera vi volevo far vedervi mi ha detto brazo dal giornato ma se voglio andare qua sì ho capito va bene aspetta riproviamo ma lo volevo far vedere perché ci abbiamo messo un sacco di tempo a farlo capisco perché ma è il link che non va bene vabbè ora si alla fine ho il link alla playlist vediamo se è quello va ecco una cosa interessante in tutta questa reazione siamo sicuri che dopo aver giunto la candeggina io devo essere sicuro che la candeggina sia in eccesso perché così l'avevo pensata all'inizio se ho sbagliato qualcosa e trovo che dopo che ho fatto tutta questa aggiunta non c'ho candeggina nel campione vuol dire che avevo sbagliato o i calcoli o è successo qualcosa allora interessante perché se ho imparato come si fa una titolazione iodometrica la riproduco sulla scala proprio micro micro cioè prelevo una goccina dalla miscela di reazione e faccio un saggio stavolta non è una titolazione su una provettina da saggio con una puntina di spatole KI salda d'amido e il test mi dice negativo vuol dire che l'ipoclorito si è consumato tutto e quindi ho sbagliato qualcosa la salda d'amido non si colora oppure positivo che è presente in eccesso di ipoclorito fatto questo test quindi dopo essere sicuro che l'ipoclorito è in eccesso e c'è dentro la reazione aspetto un quarto d'ora 20 minuti e e poi qui è molto interessante perché qui ai ragazzi dico vabbè questo pallone di reazione cosa c'è dentro e quindi come lo vado a separare questi vari prodotti e vabbè c'è acqua perché ce l'abbiamo messa in qualche modo c'è il ciclesanolo non reagito c'è acqua perché è il solvente della candeggina c'è il ciclesanolo non reagito perché la resa non sarà del 100% c'è il cruro di sodio che è il prodotto della reazione c'è l'acido acetico che ha fatto da catalizzatore e teoricamente dovrebbe essere tutto lì i 5 mililitri che ci hanno messo e c'è l'eccesso di ipoclorito quello che non ha reagito allora volendo qui si possono fare diverse cose magari tutto quell'acido acetico lì nel pallone se lo neutralizza è meglio quindi magari aggiungo un po' di base per riportare il pH perlomeno neutro se voglio neutralizzare eccesso di ipoclorito aggiungo un po' di sorfitto di sodio lo neutralizzo ma insomma l'eccesso ipoclorito anche se non si neutralizza cambia po' nella fase organica chi c'è rimasto c'è rimasto il ciclo esanone se faccio l'estrazione con etere in tutto questo poi vabbè secco elimino l'acqua seccando con solfato di sodio anidro vado a rotavapor posso determinarla resa interessante e come faccio a sapere che ho ottenuto il ciclo esanone perché uno dei problemi della chimica organica è che gli studenti vedano tutta roba in colore partano da una roba in colore ottengono una roba in colore e quelli meno motivati dicono è tutto bello ma alla fine c'è cosa ho ottenuto cioè va accoppiata alla fine l'analisi del prodotto in qualche modo vabbè metodo più semplice e faccio il punto di ebollizione beh faccio il punto di ebollizione se mi viene 156 gradi che o comunque giù di lì il prodotto è il ciclo esanone oppure faccio una bella TLC ora questa non è proprio venuta benissimo però se faccio la TLC su questa TLC c'è stato seminato tutta a sinistra il ciclo esanone c'è una macchiolina che lì si vede male perché è la fotografia però c'è si vede proprio un po' ciclo esanone puro è quello nel mezzo a destra c'è il prodotto di reazione che contiene il ciclo esanone ma la TLC che è rivelatrice ci dice anche che si è formato qualche altra roba un sottoprodotto vedete qua che non è ciclo esanolo perché ciclo esanolo sta qui è un qualcos'altro quindi questo andrà investigato meglio vabbè in realtà ora poi quella lastrina lì è stata fotografata proprio dopo lo sviluppo dopo 5-6 minuti è diventata un po' meno intensa quella macchia è stata più intensa quella di sopra però è sviluppata con acido solforico etanolo alla vecchia maniera bruciata sulla piastra questa non si vede niente siccome abbiamo anche un bel HPLC ci abbiamo fatto un'iniezione all'HPLC e in realtà l'HPLC rivela un bel picco a 4 minuti questa è fatta su colonna fase inversa C18 condizioni classiche un bel picco solo che dovrebbe essere significativo solo per il ciclo esanone il sottoprodotto dall'HPLC non l'abbiamo visto quindi andrà indagato poi abbiamo mandato il campione a fare un gicci in massa così ci diranno anche se c'è qualcosa da lì si dovrebbe vedere non ce l'abbiamo noi abbiamo un'azienda che ci ospita gli studenti per il PCTO che ogni tanto ci fa qualche analisi un'altra cosa è concluso così siamo praticamente in orario parlando di analisi chimiche c'è una c'è una tecnica di analisi che alle scuole superiori non si fa quasi mai che è la risonanza magnetica che in realtà sarebbe molto interessante non si fa quasi mai perché nessuna scuola ha lo strumento sempre pensando in un contesto green io qui l'ho messo questa parte perché è molto interessante andare a vedere come si è evoluta la tecnica nel senso quello che venete a sinistra è il classico magnete da NMR 300 MHz bussolottone tutto schermato funziona con l'azoto liquido con l'elio liquido per far funzionare il magnete costa un sacco di soldi perché bisogna comprare l'azoto liquido l'elio liquido ci vuole il personale qualificato non è che uno arriva e fa l'analisi anche questa si è evoluta in una maniera green di qua vedete uno strumento da banco io qui ho la fortuna di avere una mia ex compagna di università che si è laureata con me che ora lavora all'IPCF a CNR e il suo gruppo ha comprato questo spin solve 80 quindi mi ha chiamato dice ma ti interesserebbe vedere l'NMR ma volentieri quindi ci portiamo la classe perché è un NMR proprio in una stanza sta è molto interessante perché non serve più l'azoto liquido non serve più l'elio liquido lo metto su un banco come uno spettrofotometro anche la preparazione del campione è molto semplice infilo dentro il software è iper semplificato è stato proprio progettato per seguire le reazioni chimiche addirittura c'è tutto un sistema che può essere collegato in flusso a un pallone da reazione costa 80.000 euro però vabbè non è per scuola uno non è che cosa se ne fai a scuola però è interessa se uno ce l'ha nel territorio è l'occasione però è anche per far capire il passo dal vecchio al nuovo e sempre in chiave di risparmio e gli abbiamo fatto fare anche uno spettro che ancora io ho scritto in progress perché me l'ha mandato ieri e quindi sì me l'ho incollato lì ma sinceramente non ho avuto il tempo di analizzarlo bene però la cosa che compare qui dice insomma il prodotto c'è c'è anche un po' di ciclisano ora cerchiamo di capire se c'è qualcos'altro ci vuole un po' di mappe bidimensionali perché se no così non si vede niente però vabbè questa era ecco e questo alla fine è il compito che abbiamo dato ai ragazzi in chiave educazione civica su questo percorso trasversale una domandina in inglese sulla green chemistry perché la sintesi che abbiamo fatto è green quali sono gli aspetti green e poi abbiamo una parte un po' più chimica e la parte legata alla chimica analitica e così via e questa era poi la valutazione finale del percorso niente io vi ringrazio per l'attenzione tutti questi materiali cerchiamo di mettervi online come risorse raggiungibili in varie parti vi volevo solo riuscire a far vedere se ce la facciamo ora ci provo perché ormai un minuto se va il video perché ci abbiamo passato due giorni a farlo giusto per vedere l'introduzione magari questo qui è il canale youtube dei video vediamo un po' se si riesce il video dura 10 minuti non si sta a vedere tutto però per farvi capire come lo potessero volete utilizzare con gli studenti noi abbiamo filmato proprio tutti i passaggi chiave quindi questa per esempio è la pesata del ciclo esanolo e trovate poi inquadrato sulla bilancia la massa quindi anche se uno poi vuole fare il calcolo della resa c'ha tutti i dati per poterselo rifare c'è inquadrato che cos'è il reattivo c'è inquadrata la pesata e così via ora vabbè la pesata è poco interessante però c'è la parte della parte della reazione qui viene montato il sistema quindi è già stato aggiunto l'acido acetico viene messo nel bene viene predisposto l'imbuto col cellulatore sopra ora viene lì sotto c'è il ciclo esanolo e l'acido acetico per ora messo il bagno a ghiaccio io non l'ho detto ma ringrazio questo mio studente del quinto anno che è un grande appassionato di chimica organica grande esperto di sintesi proprio li piace si vede poi dal video se lo vedete c'è una bella manualità di laboratorio si attiva l'agitazione e poi una volta sotto agitazione si va ad aggiungere la candeggina vediamo solo l'aggiunta della candeggina questo per per farla fashion e farla bene abbiamo usato la candeggina analitica funziona anche con quella del supermercato però per avere la bottiglia è quella Carlo Erba 30 ml che sono quelli progettati nell'imbuto gocciolatore mettiamo dentro e sgoccioliamo goccia a goccia poi si vede che si forma subito questa patina di olio di olio insomma di ciclo esanone si vede che si separa poi carica l'imbuto e poi si si dà il via alla reazione questa è la nostra candeggina un po' giallina ok si stappato là perché l'imbuto non era compensazione di pressione ma insomma si va a goccia a goccia funziona si è bloccato lì no funziona ecco lì si regola il flusso goccia a goccia si sgocciano tutti tutti i 30 millilitri di candeggina abbiamo fatto il focus sugli elementi chiave no avete visto cioè non è un video fatto a caso è un video pensato l'abbiamo rifatto quattro volte per farlo bene se uno ci sta attento vede una volta girato da una parte una volta girato dall'altra ma insomma una regia sì va bene e niente vabbè qui poi ci sono tutti i vari passaggi c'è anche il saggio con la provettina dello iodio qui più avanti c'è la separazione con l'imbuto e così via insomma c'è proprio tutto dall'imbuto qui questa è fantastica si vede proprio le due fasi che si separano insomma è carino via c'è anche per chi non l'ha visto c'è anche l'evaporazione del solvente a rotavapo insomma sono spunti interessanti va bene mi fermo qua allora innanzitutto ringrazio per le ottime presentazioni anche il linguaggio come sono state esposte è molto chiare tra i vari metodi non so anche se uno volesse anche proporre no senza anche utilizzare solventi attualmente ecco nel campo scientifico sono molto utilizzate sono i deep authentic solvent che sono dei solventi green eco sostenibili che si vogliono essere anche come alternativa ci sono varie strategie che possono essere usati non so se avete mai solventi non ho capito i deep eutetic solvent fanno parte dei gruppi dei liquidi ionici i liquidi ionici sono i liquidi ionici hanno il vantaggio il liquido ionico che praticamente non ci sono problemi di evaporazione diciamo ecco quindi sono a questo punto di vista sono non nocivi diciamo ecco il limite è la solubilità diciamo ecco che non tutti i liquidi ionici non tutte le sostanze sono solubili però anche lì si tratta di trovare anche lì c'è una grande flessibilità diciamo ecco però sono sempre abbastanza costosi ecco i liquidi ionici sono costosi diciamo quindi questo va bene per la per la ricerca l'applicazione industriale ancora io non ho visto niente però nell'ambito della ricerca si liquidi ionici sono sono oggetto di studi si fanno studi per dico anche di base studi di elettrochimici elettrochimici nei liquidi ionici cioè è un oggetto di ricerca diciamo ecco è un campo della ricerca ancora l'applicazione secondo me è lontana mentre invece non so nella CO2 supercritica la CO2 supercritica ha un impiego industriale vastissimo per esempio è utilizzata la CO2 supercritica per la decaffeinizzazione del caffè è abolito il vecchio i vecchi solventi clorrati diciamo leggiamo qualche qualcosa nella chat sono tutti molto contenti quindi anche noi siamo contenti del risultato qualcuno vuole aggiungere qualche commento oltre alla contentezza siamo a disposizione il fatto che diceva mi pare Luigi che o forse Sandro che gli studenti sono abituati a vedere sempre le reazioni in fase liquida sostanzialmente perché chiaramente è il modo in cui si mescolano meglio le sostanze perché l'ha detto Aristotele sì l'ha detto Aristotele anche a occhio capiamo che nel liquido stanno meglio insieme le cose però effettivamente fargliela vedere anche in un ambiente diverso perché quando le scriviamo con S sotto lì va bene in tutti in tutti gli ambienti però poi in effetti nella pratica è sempre quello liquido che si usa io ho visto proprio lo stupore di dire ma perché si può fare poi interessante perché se uno prepara la miscela di reazione con i due solidi nella caso della solvent friccia un colore quando uno la filtra dopo che è avvenuta la reazione si accorge che il solfato di rame non è più azzurrino ma diventa bianco quindi gli è successo qualcosa e quindi si vede proprio la differenza prima e dopo si vedono proprio questi cristallini col colore diverso un'altra cosa che secondo me è importante sempre dal punto di vista didattico è proprio il fatto dei colori come stavi dicendo tu in chimica organica spesso ti viene tutto in colore e quindi chiaramente colpisce poco mentre un bel iodio che corposamente sul marrone corposamente colorato sicuramente colpisce molto di più ecco come cosa è anche un permanganato è anche un bel permanganato danno suddici Matteo è per questo che io ho scelto la chimica in organica ecco perché almeno è colorata e poi puzza di meno perché la chimica organica puzza anche di più va bene se non ci sono domande allora ci fermiamo qui e per il materiale passate tramite l'organizzatore va bene grazie a tutti e arrivederci grazie a tutti grazie a tutti